Ringrazio il Teatro Verdi per avermi dato questa possibilità anche di reinterpretare un po' in chiave moderna contemporanea questa figura e porto il messaggio dell'amore sicuramente e soprattutto il messaggio che in realtà ci sono diversi modi di comunicare soprattutto con il linguaggio del corpo e soprattutto insomma di portare appunto il sentimento dell'amore che pur essendoci dei limiti la ballerina muta appunto è il mio amore senza una gamba in realtà questo è solo un limite che non non limita appunto il nostro amore tra l'altro insomma ci siamo veramente trovati anche insieme tra i colleghi e tutto molto molto bene speriamo che riusciamo a condividere anche con il pubblico questo momento di gioia di amore sicuramente che insomma ne abbiamo bisogno in questi momenti bui purtroppo della nostra storia attuale spero vivamente che vi piaccia vi aspetto solo una gamba ciao